Salve a tutti ragazzi, oggi andiamo a vedere un bel supportino da auto per i nostri smartphone in particolare un supporto che va con attacco magnetico quindi bentornati in compagnia di Guerz 86 Allora eccoci qua, ho già spacchettato il nostro accessorio perché ovviamente è un accessorio molto minimale come potete vedere questo è l'adesivo, l'adesivo che andrà ad agganciarsi al nostro smartphone poi chiaramente vi farò vedere come c'è un doppio adesivo perché praticamente questa parte qui, questo pleittino qua si può inserire all'interno della nostra cover, se utilizziamo una cover mentre quest'altro invece va attaccato allo smartphone nella parte retro con chiaramente sempre il biadesivo 3M sapete ormai 3M come fa dei biadesivi veramente incredibili e questo appunto ci servirà per avere l'altra parte della calamita questo è l'aggancio che va messo nella bocchettina dell'aria condizionata quindi va inserito in questa maniera qua e chiaramente qua ci andrà appoggiato l'altra parte vedete se io vado a utilizzare la calamita si aggancia in maniera molto forte anche qua dall'altra parte si può agganciare qui dovete un po' scegliere voi se utilizzare questo qua un pochino più rotondo per andare appunto a praticamente attaccarlo dietro il vostro telefono oppure se non volete attaccarci niente io vi consiglio questo perché va inserito nella back cover ora vi farò vedere anche come prendiamo per esempio il nostro iPhone 6 andiamo a togliere la back cover di casa Apple appoggiamo un attimino qua il telefono vedete praticamente potete scegliere se attaccarlo qua con il 3M oppure potete anche solamente appoggiarlo ecco non è che per forza dovrete andare a attaccare l'adesivo 3M dietro la back cover oppure dietro il telefono perché chiaramente sapete bene come 3M si non lascia residui però insomma è un collante abbastanza forte io non lo so io non l'ho attaccato e lo utilizzo in questa maniera qua vi faccio vedere come si davvero funzioni bene quando si va a agganciare al nostro smartphone allora ecco qua come potete vedere qua nella parte retro abbiamo questo piccolo la parte insomma calamitata ecco qua vedete come si aggancia subito alla nostra back cover vi faccio anche vedere ora vabbè io ho sbagliato a andarlo a insomma agganciare molto difficile andare a staccare questo questo supporto per auto perché chiaramente costruito apposta la calamita è proprio di una forza incredibile quindi diciamo un ottimo accessorio per chi non vuole avere quell'ingombro sull'automobile che sapete bene come i supporti magari anche quelli con la ventosa che si attacca al nostro vetro diano comunque ingombro durante la guida questo invece si può tranquillamente attaccare vedete che proprio come faccio fatica anche a portarlo più su si può tranquillamente attaccare alla bocchettina e quindi molto comodo poi si attacca e stacca una volta c'erano quelli fatti a calamita ma bisognava proprio attaccare il magnete dietro il nostro telefono quindi si andava a graffiare invece adesso hanno costruito questo tipo di accessorio che secondo me è molto valido e utile valido anche come stand guardate per andare a vedere un film per esempio se vogliamo vedere un film sulla scrivania io ho trovato anche questo utilizzo per questa tipologia di smartphone adesso vi metto anche un pochino più a fuoco quindi insomma avete ben capito ci potrebbe essere un utilizzo misto di questo accessorio sia per la macchina ma anche non lo so in casa se volete uno stand un pochino particolare calamitato quindi molto veloce anche l'installazione di tutto ciò ma è raga per oggi è tutto come sempre ci sentiamo all'interno dei prossimi video e un saluto dal vostro WERS86 e un saluto dal vostro WERS86